Per la prima volta il Comune di Napoli ha espletato una procedura di evidenza pubblica per la concessione a titolo gratuito dei beni confiscati alla criminalità organizzata. I primi quattro immobili, assegnati questa mattina con una procedura alla quale hanno preso parte l'assessore beni comuni Carmine Episcopo del sindaco Luigi De Magistris, si trovano rispettivamente alla salita Ugo Di Fazio, con destinazione d'uso di centro polifunzionale di accoglienza, assegnato all'associazione Les Onlus per un progetto di inclusione e di formazione per la ristorazione, per creare una cooperativa di donne richiedenti asilo. In via Terracina, con destinazione d'uso rivolta alla prevenzione del disagio giovanile, assegnato all'associazione Carmine Gallo Onlus per il progetto Casa di Alice, che darà ospitalità ai familiari dei bambini italiani e stranieri ricoverati o da sottoporre a cure ospedalieri al Pausillipon. In via Dante Alighieri, con destinazione d'uso di vendita di prodotti ecosolidali o realizzati nei penitenziari cittadini e regionali, assegnato alla cooperativa sociale e litografi vesuviani, ed in via Gran Sasso, con destinazione d'uso a finalità sociali, assegnato all'associazione Papà Separati per il progetto Ancora Genitori, che prevede un percorso di accoglienza, accompagnamento e sostegno ai genitori in regime di separazione. Quando si assegna un bene confiscato alla Camorra, detto il sindaco, lo si restituisce alla società civile e all'intera collettività.